Siamo per vedere Giorgia Villa alla trave. Rondata, salto teso, smezzato. Brava. Vai, lei deve partire con ritmo. Se già spezza il ritmo, invece partiamo con ritmo. Rondata e salto. Sì, raccolto avvitato. Ragazzi, che meraviglia. Ogni volta. E doppio, triplo, giro con strizzata d'occhietto alla giuria. Sì, sì. Capovolta in verticale e collegato a una giambe cambio, collegato a una giambe sul posto e lascia giù il piedino. Bene, mezzo giro in passe. Bella questo. Guardate che ritmo che ha questo esercizio. Brava. Doppio giro in passe. Brava. Sono in gara con loro io oggi. Ruota senza mani. Stai seguendo una trave pressoché perfetta. veramente da Olimpiade. Brava. Cioè, pensate che siamo già alla fine dell'esercizio. Rondata e doppio avvitamento. Brava, brava, brava. Uno stato di forma incredibile.